Siamo nel laboratorio di ottica dell'istituto professionale Boccioni Fermi di Reggio Calambria e con il presente video approfondiamo la figura dell'assistente di laboratorio, che è una figura molto presente negli istituti professionali che sono dotati di parecchi laboratori. Inoltre, questa figura, l'assistente di laboratorio, rappresenta uno dei tanti sbocchi lavorativi per i ragazzi che escono dalla scuola professionale. Chi è l'assistente di laboratorio? Intanto è colui che prepara e organizza il laboratorio e si occupa della manutenzione e delle attrezzature utilizzate all'iniezione, vigila sul laboratorio stesso e gestisce il materiale di magazzino e prepara quello per le esercitazioni. Come si diventa assistente di laboratorio? Intanto bisogna avere conseguito un diploma di maturità tecnica o professionale che dia accesso alle aree di laboratorio. Si accede dapprima attraverso le graduatorie d'istituto utili ad assumere supplenze e prese o volume che consentono appunto di accumulare servizio. Una volta raggiunti i 24 mesi di servizio, accumulabili anche in maniera discontinua, si viene inseriti in un'altra graduatoria, che è la graduatoria permanente provinciale. Attraverso questa graduatoria si può accedere agli incarichi annuali e quindi all'ambito ruolo, perché appunto viene utilizzata proprio per immettere in ruolo. Il loro contratto di lavoro, dell'assistente di laboratorio, appunto prevede, è un contratto di 36 ore settimanali. Una conferma della possibilità immediata di lavoro come assistente di laboratorio dopo il diploma professionale ci viene data da Denise Borlaffi, che è qui accanto a me. Ciao, Denise ha ricevuto un contratto di lavoro a tempo determinato per tutto l'anno in questo istituto, per il secondo anno consecutivo. Complimenti e bentornata. Racconta brevemente la tua esperienza. Tu sei arrivata qui l'anno scorso, intanto ti sei diplomata in questo istituto quando? Nel 2019 e 2020. E quindi l'anno scorso hai fatto domanda come assistente di laboratorio in questo istituto. Siamo arrivati a 12 mesi, mi hanno chiamato l'assistente di laboratorio in questo istituto. Benissimo. Racconta la tua esperienza, come è stato l'anno scorso, intanto hai fatto tutto l'anno, come ti sei trovata? Mi sono trovata bene, già è avuto il secondo anno di scuola in questa scuola, quindi ho avuto l'anno di esperienza. E quest'anno che tipo di contratto hai avuto? Finito 21 avuto, bene, quindi come l'anno scorso. Sì, come l'anno scorso. Già, il secondo anno consiglio, complimenti. Con quanti anni hai? 21. Giovanissimo, dai banchi di scuola di questo istituto dall'altra sconda dove professionista. Senti una cosa, tu stai frequentando l'università? Sì, siamo al terzo anno di ortotica assistenza oftalmologica. Di cosa si occupa? Allora, l'ortotica praticamente è una branca dell'ortomologia che si occupa dell'efficitto muscolare. Quindi la stai frequentando dove anche sì, ma quando ci sono le lezioni, tu hai comunque il diritto allo studio, come prevede per legge, ci sono tutto l'orto e poi puoi fare l'unità, l'amorare e studiare. Complimenti, Denizia, bentornata e buona scuola. Grazie a tutti.